Ultimo appuntamento a Sala Consilina con lo steggio sulla storia del teatro a cura di Maria Teresa Renzo, presso la sede dell'Associazione di Via Carlo Pisacane. Venerdì invece spettacolo all'ITIS con la compagnia Calandra di Tull, che porterà in scena Dr. Jekyll e Mr. Hyde per la regia di Giuseppe Migiano. L'inizio dello spettacolo è per le ore 20 e 30. Venerdì ospiteremo una compagnia della provincia di Lecce, direttamente da Tuglie, la compagnia Calandra, porterà in scena per teatro in sala l'opera Dr. Jekyll e Mr. Hyde, tratta dall'ononimo libro. In quest'opera siamo nel regno del doppio, del doppio gioco, dello specchio che si guarda allo specchio, all'infinito, immerso in quella sottile linea tra la notte e il giorno, tra il bene e il male, il silenzio ed il clamore, l'istinto selvaggio e l'equilibrio, il veleno ed il suo antidoto. Harry Jekyll, scienziato colto e ambizioso, si guarda allo specchio e vuole uscire dal suo vecchio corpo. Anera la giovinezza, Mr. Hyde è alle porte, vibrande, malefico ma affascinante. Tutto questo per la regia di Giuseppe Migiano. Tutto il resto lo scopriremo venerdì sera. Non mi resta che darvi l'appuntamento e invitarvi tutti a teatro in sala. Io e i ragazzi di San Rocco, dei ragazzi di San Rocco, vi aspettiamo.